I primi dati di questa ricerca sono dei dati già di per sé importanti perché ci permettono di capire innanzitutto quali sono i punti di debolezza della persona con sindrome di Down. Ci siamo accorti effettivamente che le persone con sindrome di Down hanno delle difficoltà importanti nel riuscire a fermarsi prima di dare una risposta e nel riuscire a gestire le informazioni che non centrano nulla con l'obiettivo che devono raggiungere. L'obiettivo finale di questa ricerca oltre alla grandissima raccolta di dati è quello innanzitutto di riuscire a creare per esempio un modello teorico di riferimento in quest'ambito per la sindrome di Down, un modello teorico che al momento non esiste e quindi di riuscire ad apportare qualche novità positiva anche per i professionisti che lavorano con le persone con sindrome di Down.